Grave in Chianti torna al centro del mondo con l'Expo Chianti Classico. La storica manifestazione che giunge quest'anno alla 47esima edizione si terrà dal 7 al 10 settembre e metterà in mostra tutto il meglio della produzione vinicola degli otto comuni del Chianti Classico. Nell'Expo ci sono 66 aziende che partecipano con le loro stand del Chianti Classico e questa penso una manifestazione arrivata alla 47esima edizione, penso sia molto molto importante che continui ad avere questo grande interesse e poi c'è uno stand anche del consorzio dove sono presenti 30 aziende, quindi altre 30 aziende, parliamo già quasi di 100 aziende che rappresentano più o meno un terzo delle aziende presenti sul mercato mondiale. Cosa sarebbe la Toscana senza le sue dolci colline ricoperte dalle viti e dagli olivi? Senza il suo vino famoso in tutto il mondo? La produzione del territorio passa infatti non solo dal turismo ma anche dalla valorizzazione del suo prodotto principe, quel vino color rubino dal gusto morbido e vellutato di origini nobili e frutto di una tradizione e di un saper fare pluricentenari. Stiamo lavorando con i comuni e anche con il consorzio sul distretto, quindi stiamo cercando anche di perfezionare alcuni passaggi all'interno della composizione del distretto che vedano sicuramente rappresentare sia un territorio che le aziende che devono investire, che vogliono essere sempre più sfidanti con i mercati internazionali, diventa un momento di presentazione voglio dire di un marchio che è conosciuto in tutto il mondo, il Chianti Classico. Tutto pronto a Greven Chianti dunque per una quattro giorni in cui sarà possibile degustare i vini più pregiati delle scorse annate per centinaia di etichette. Ma non solo, un denso programma di eventi porterà in questo splendido borgo toscano concerti, sfilate di moda, rievocazioni storiche, incontri, talk show ed eventi espositivi. L'ingresso in piazza è libero, per la degustazione è necessario acquistare un calice griffato al costo di 10 euro che dà diritto a 7 degustazioni. È un'occasione ancora, se possibile, nuova per raccontare, raccontare la Toscana, raccontare il Chianti che da solo costituisce un brand a livello internazionale. La Toscana fortunatamente ha queste risorse, queste grandi opportunità che fanno del racconto della nostra terra l'eccellenza, la piacevolezza, la qualità del vino ma anche la capacità di raccontarlo, di costruire su questo identità locali, parlare dei comuni, delle tante eccellenze, dei nostri territori, del paesaggio.